Buona passione! Dai! Allora! Giulio, decido di lui! Arrivo! Edo, ma dove corri? Ma cos'è questa fretta? E dove stai andando? Ah, io? Guarda te che non riesci neanche a smettere di postare mentre fai la spesa! Avete mai provato a rallentare un attimino? Anzi, proprio fermarvi e fare un grosso respiro? E rilassarvi? Con Feel Good facciamo proprio questo! E lo facciamo assieme a voi, iniziando un magnifico viaggio che ci porterà a cambiare i nostri atteggiamenti, le nostre abitudini con un unico scopo, vivere bene! I feel good! Feel good! Per tre interi mesi del nostro viaggio saremo accompagnati da tre challenger. Ciao a tutti, sono Michela, ho 25 anni e vengo da Campobasso, però da due vivo a Milano. Sono laureata in Fashion Communication e Marketing e lavoro in un'agenzia, ma sono ancora in cerca della mia strada. Mi chiamo Daniela, per gli amici ladani, ho 43 anni, vengo da Brescia e sono un'imprenditrice da circa 20 anni. Ciao, mi chiamo Alessandro, vengo da Varese, ho 26 anni e penso che questa sfida mi possa far ritrovare la serenità fisica e mentale per continuare ad approcciarmi con la vita quotidiana sia nel lavoro che extra lavoro. Nonostante io lo mascheri, non mi sono mai vista bella e proprio per questo so che devo lavorare sul mio corpo, ma soprattutto sulla mia autostima. Oggi sono qua perché ho una sfida grandissima, la più grande di tutte, quella con me stessa. Voglio riappropriarmi dei miei spazi, del mio peso e imparare ad amare me stessa, così come amo il mio lavoro, la mia agenzia e tutte le persone che mi stanno intorno. Iniziamo questo nuovo viaggio insieme! Feel good! Yeah! Grazie a tutti!